Il confronto è inevitabile. Il confronto che sta arrivando è tra il fondamentalismo cristiano e Malta. La mia domanda è, chi crea la violenza nel nome della religione in modo da far cessare la violenza nel nome della religione? Viviamo in tempi veramente seri. Vogliono unire la Chiesa e lo Stato per controllare la coscienza. Questo è un appello al mondo protestante. Stai guardando alle tue radici? Non arrendetevi dove altri sono disposti a morire. Nello studio precedente abbiamo visto la possibilità e, secondo me, la probabilità di un tremendo inganno storico di come il Cattolicesimo Romano e l'Ordine dei Gesuiti si sono organizzati per scomparire in termini politici per poi riaffiorare come se nulla fosse accaduto. Ma, ovviamente, durante questo periodo di tempo è stato organizzato il piano per il conflitto finale. Da parte loro ci fu un movimento enorme e brillante. una cosa è impostare l'infrastruttura. Ma se vuoi battere Gesù Cristo, se vuoi sconfiggere Gesù Cristo, questo è il loro scopo. Allora, l'unico modo per farlo contro Dio, perché Dio è invincibile, è di causargli grande dolore eliminando i Suoi figli. Non c'è nulla che addolora il cuore di Dio più di vedere un inganno che aliena i Suoi figli da Lui. È un processo veramente sottile e deliberato. Ora, la Bibbia dice che in questo gran conflitto che avremmo eventualmente tutta la Terra si meraviglierà dietro alla bestia. C'è scritto Wander con la O, non con la A. Meravigliarsi dietro alla bestia implica comprensione. In altre parole, questa guerra non è molto fisica, cioè è anche fisica, così come è una battaglia per la mente, perché è nella mente che si decide da che parte stare, se con Gesù o con un'altra forza. È qui che prende posto la battaglia. Nel processo puoi morire, nel processo puoi finirla al palo. Nel frattempo, molte cose possono accadere, nazioni possono nascere, morire, tutte queste cose possono succedere. Ma non temete coloro che distruggono il corpo. Dobbiamo temere colui che può distruggere l'intero essere umano, corpo, anima e spirito nel conflitto finale o nel giudizio finale che verrà fatto. E il diavolo vuole che il genere umano venga distrutto. E l'unico modo per farlo è di cambiare la mentalità. Questa è sempre stata una battaglia per la mente. Abbiamo imparato nella scorsa lettura che l'ordine dei Gesuiti ha creato tutti i sistemi scolastici che in seguito divennero i sistemi scolastici mondiali e introdussero sapienza contro sapienza dove le due mentalità si scontravano. Da una parte c'è la mentalità cristiana che prende la Bibbia come standard di tutta la giustizia e la base dell'insegnamento e dall'altra parte abbiamo il gnosticismo dove l'uomo è il centro di tutto. e l'uomo è l'unico da elevare come Deità. Significa imitare il serpente nel giardino dell'Eden. La più grande strategia usata dai Gesuiti per vincere la mente era il teatro Gesuita il dramma Gesuita. Guardando nell'enciclopedia britannica dice dramma Gesuita programma teatrale sviluppato per scopi educazionali e propagandistici nei collegi della Società di Gesù durante il 1500 1600 e 1700 coltivato come mezzo per disseminare la dottrina cattolico-romana il dramma fiorì nelle scuole Gesuite più di 200 anni fa evolvendo da modeste esercitazioni studentesche a produzioni elaborate che spesso rilevano la scena pubblica contemporanea raffinata e capace la prima esibizione conosciuta di un'opera Gesuita è del 1551 fondata eccetera in Sicilia in meno di vent'anni le opere furono eseguite in più di 12 collegi Gesuiti fiorendo nelle città attorno al continente inclusa Roma Siviglia Cordoba Innsbruck Monaco e Vienna e divenne un'enorme organizzazione alla metà del 1600 c'erano quasi 300 collegi Gesuiti in Europa e in quasi tutti almeno una volta all'anno uno spettacolo veniva eseguito in origine si fece in modo di attirare la gente e protestanti ma eventualmente gradualmente altre cose iniziarono ad entrare in origine le donne non partecipavano ed eventualmente sempre più donne e la musica iniziò a cambiare e progressivamente iniziò lentamente a pervadere la mente della gente ma gli autori teatrali Gesuiti usarono materiale dalla mitologia pagana storia antica e contemporanea tutti reinterpretati in base alla dottrina cattolica fatto intelligentemente bene la loro tecnica teatrale prese piede con tutti i nuovi sviluppi tecnici la musica fu un elemento importante in molti spettacoli che vanno dalle semplici canzoni a opere che richiedevano una grande orchestra e cori e Mozart a undici anni compose la sua prima musica per il teatro gesuita perché suo padre era uno dei direttori del dramma gesuita e da qua venne introdotta questa grande musica in questo modo di recitare e colpire la mente eventualmente incluse il balletto fu introdotta l'opera la stravaganza e la lussuria di molte produzioni gesuite furono attaccate molte produzioni erano enormemente costose quindi non si risparmiavano e allo stesso tempo non gli costava nulla come l'hanno fatto? bene un carro preso dal nemico Sun Tzu disse non usare mai i tuoi soldi usa quelli degli altri spettacoli drammatici furono proibiti o limitati in molti posti e cessarono nel 1773 in questo periodo dove i gesuiti furono scacciati da tutta l'Europa scomparve anche il dramma gesuita sparito e cessarono contemporaneamente nel 1773 quando la società di Gesù fu temporaneamente soppressa la mia domanda è sparì realmente o si nascose per riapparire sotto nuova forma quindi sparì lo fece sparì è una bella domanda chiediamolo a una pagina web moderna www.gesuitcp.org non è definitivamente sparito torniamo indietro nella storia per quasi 500 anni dicono il teatro ha giocato un ruolo vitale nel curriculum delle scuole gesuite lo dicono loro oggi in Dallas il teatro gesuita si costruisce in quello tradizionale attraverso l'offerta di un ampio raggio di opportunità per gli studenti e parlano di tutti i posti assurdi su questa cosa gruppo drammatico questo gruppo di attori esperti operano settimanalmente nelle scuole medie come parte del programma di servizio della comunità gesuita hanno portato il teatro gesuita nelle scuole e i gesuiti supportano queste attività con un'ampia offerta di curriculum incluso il teatro artistico attori tecnica teatrale e direzione teatrale e poi ti chiedono di far parte del teatro gesuita e sembra che piccoli collegi qui e lì facciano qualcosa ma sono molto più brillanti di così inserito nella ratio studiorum studi razionali dove elementi di intrattenimento produzione drammatica composizione retorica e eloquenza e questi corsi sono connessi con esercizi spirituali ecco qualcosa per controllare le menti modo di pensare ignaziano che ti trasporta in una forma di religione supernazionale esperienziale dove l'esperienza diventa la norma le impressioni comandano ma la ragione è esclusa quindi introdussero gli esercizi spirituali nella forma più sottile per intensificare l'esperienza della dottrina cattolica nel protestantesimo crearono un genere di recita spettacolare vincendo la distinzione di teatro gesuita è scritto in rulers of evil il prete gesuita Athanasius Kircher aggiunse qualcosa a questo teatro inventando il megafono per parlare a un grande pubblico e inventò la trasmissione quindi lui è il padre della tecnologia moderna che vediamo proprio ora in mezzo a noi camera di teatro e perfezionò la lanterna magica strumento dove si proietta un'immagine nello schermo fu l'inizio del cinema moderno un'altra cosa importante che fecero furono i film dei cowboy che furono i primi film mai fatti e cowboy e l'industria del bestiame del nord america fu introdotta dai gesuiti loro lo introdussero il fautore fu un tedesco Eusebio Kino la cui statua è una delle due rappresentante l'arrizona nel palazzo della capitale era un professore gesuita del collegio di ingolstadt in bavaria il posto in cui iniziò il movimento illuminista il nome è affascinante perché Kino significa teatro in tedesco in germania non diciamo andiamo al teatro diciamo andiamo al Kino affascinante in questi film di cowboy c'era sempre una morale e la moralità era sempre buono contro cattivo ma il buono e il cattivo non si fondavano sulla Bibbia c'era un'altra moralità in modo che fosse l'uomo a decidere cos'è il bene e il male comandato dalla pistola normalmente il cattivo moriva e il buono vinceva così iniziò e tutti gli attori erano massoni di alto livello prendete i primi attori Frank Sinatra tutti quelli coinvolti nei film John Wayne tutti massoni di trentatresimo grado e se seguite quella strada sino a oggi la maggioranza se non tutti dei più grandi attori sono tutti massoni di trentatresimo grado ora se eri un grande stratega non volevi far sapere che dirigeva i comandi quindi eri sempre dietro le scene e usavi dei rappresentanti di facciata frontman e i rappresentanti di facciata introdotti erano gli ebrei e a loro piaceva usare gli ebrei ma questi erano ebrei del papato non sono ebrei nel senso biblico conoscere e obbedire le scritture non è necessario per capire cos'è bene e male questo disse Satana nell'Eden tu conoscerai il bene e il male non hai bisogno che te lo ordini Dio dopo la seconda guerra mondiale durante il settembre 1957 Papa Giovanni XXIII diede un orizzonte ancora più ampio al teatro gesuita con la sua enciclica Miranda Porsus vedere in anticipo scrisse l'uomo deve essere portato in stretta comunione l'uno con l'altro loro devono avere una mentalità sociale avete mai sentito parlare di dottrine sociali? le arti tecniche cinema trasmissione sonora e televisione possono raggiungere questo scopo molto più facilmente che la parola stampata la chiesa cattolica è profondamente desiderosa che questi mezzi siano convertiti per spargere e far avanzare tutto ciò che può essere chiamato buono voglio ricordarvi che nel mondo occulto nel mondo esoterico il bene diventa male e il male diventa bene se vi dicono che qualcosa è buona potete invertire le cose e capire che il male trionferà abbracciando come fa l'interesse della società umana assieme alla sfera della sua designata missione divina è davvero completamente interessata alla promozione della civilizzazione tra tutti i popoli c'è un movimento per abbracciare tutta l'umanità significa che tutta l'umanità deve ricevere la stessa mentalità Giovanni XXIII ha esortato che gli uffici della rassegna nazionale del film di Pio XI siano affidati a chi possiede esperienza nel cinema allo stesso tempo noi esortiamo che i fedeli e in particolare coloro che sono militanti nella causa dell'azione cattolica devono essere i gesuiti e i loro protetti siano opportunamente istruiti in modo che possano apprezzare il bisogno di dare a questi uffici la loro disponibilità e coesione nel 1964 Papa Paolo VI amplificò questo Miranda Porsus col decreto inter-mirifica tra le meraviglie e disse cose incredibili cito è per diritto di nascita della Chiesa di usare e possedere la stampa il cinema la radio la televisione e altre cose del genere deve includere internet quanti media controlla e possiede vogliono controllarle possederle e controllarle tutti tutti quanti Paolo citò una speciale responsabilità per l'uso appropriato dei mezzi di comunicazione sociale i quali si poggiano sui giornalisti scrittori attori progettatori produttori esibitori distributori operatori venditori critici anche se sentite di loro che è fatta da loro e verrà fatta da loro la cui critica sarà sia da una parte all'altra usando la dialettica hegeliana per confonderti così tanto che alla fine non sai più da che parte stare è per diritto di nascita della chiesa di usare e possedere tutti i media tutti i media sociali la qualità del contenuto dell'intrattenimento fu decretato in una sezione di intermirifica incoraggiando la cronaca la descrizione o rappresentazione della malvagità morale che con l'aiuto della comunicazione sociale e con l'appropriata drammatizzazione può portare a una più profonda conoscenza e analisi dell'uomo e alla manifestazione del vero e buono in tutto il suo splendore ecco la battaglia mentale buono e cattivo qual è buono e cattivo? il buono e cattivo biblico? o il buono e cattivo del mondo? il buono e cattivo esoterico? continuiamo incoraggiato da questo decreto papale dal 1965 i comunicatori sociali hanno spinto le garanzie costituzionali di libertà di parola e tutti i problemi connessi ora se prendiamo il fatto di possedere e controllare i media usandoli per inserire una mentalità nella gente mi piacerebbe sapere quanto è stato raggiunto senza che nessuno sapesse come hanno fatto il generale Sun Tzu non disse così? dobbiamo raggiungere l'obiettivo senza che nessuno sappia noi non dobbiamo mai essere l'obiettivo usiamo il nemico per farci fare il lavoro e anche se tu sei il nemico pretendi di non esserlo e dici che il nemico è qualcun altro vedremo qualche produzione per capire se vediamo un progetto i Simpsons è la filosofia il do di Homer eccetera leggendo a riguardo è un libro non basato sulla realtà che analizza gli effetti filosofici e popolari della sitcom americana la gente pensa questa cosa è stupida cosa ci interessano tutti questi cartoni idioti milioni di persone sono sedute a guardarlo milioni le persone dietro a questo cartone animato ricevono milioni di dollari di stipendio e se vogliamo sapere chi sono coloro che scrivono le storie resterete senza parole perché loro sono le persone più educate del pianeta Harvard con lauree in filosofia e matematica e usano numerologia occulta per raggiungere quello che vogliono raggiungere quindi diamoci un'occhiata pensavate fossero innocui il trentatresimo episodio della puntata trasmessa nella seconda stagione si chiama la guerra dei simpson l'episodio dà tributo a Ernest Hemingway il vecchio è il mare e include una grande battaglia tra Homer Simpson e il generale Sherman esaminiamo velocemente la numerologia del generale Sherman e troveremo che simpson 1 più 9 più 4 più 7 più 1 più 6 più 5 se prendete il valore numerico da 33 ci si può confondere con i molti tipi di numerologia e il risultato è 33 il valore della S è 1 perché si prende il valore in base all'ordine A uguale 1 B uguale 2 C uguale 3 eccetera perché sono preparati a 33 e perché anche Sherman dà 33 abbiamo 33 nel 33 esimo episodio voglio solo mostrarvelo perché c'è la numerologia implicata la numerologia è un'arte agnostica pagana e cabalistica ogni cosa che i cabalisti fanno si basa nella numerologia ogni cosa ha numeri ogni cosa si muove in cicli precisi loro non si muovono fino a quando la situazione è giusta il sorsizio è nel posto giusto ed è apparsa la giusta liturgia ogni cosa è governata dalla numerologia c'è della potenza nella numerologia il sistema di numeri usati qui non è quello normale ma il pitagorico e prendendo la numerologia pitagorica allora la s è uguale a 1 la i è uguale a 9 eccetera usano una formula matematica altamente sofisticata e i nomi hanno un significato specifico voi non lo sapete quando guardate questo cartone stupido ma si agisce subliminalmente sulla mente e piantano idee che il tuo subconscio usa ed eventualmente tutti iniziano a pensare allo stesso modo questo è un cartone per adulti lo guardano pure i bambini ma se poi aggiungi la stampa ai notiziari potete cambiare canali andando alla cnnn bbc al jazira qualunque canale volete avrai le stesse notizie nello stesso tempo continuamente ci deve essere qualche coordinazione tra questi gruppi altrimenti non sarebbe esattamente la stessa cosa non pensate e c'è la propaganda quindi tu crederai a quello che loro dicono quindi se vuoi creare un nemico qual è il modo migliore per farlo? creando un nemico e trasmettendolo in tutti i media quindi c'è la numerologia l'occultismo l'occultismo cabalistico e andiamo un po' avanti inseriscono sempre piccoli messaggi subliminari nella storia questo personaggio è spesso punito mandato alla lavagna e dice e dice non pianterò messaggi subliminali ma se analizzate bene subliminal messagores non dice messagges c'è un errore ma c'è Al Gore ti stanno dicendo che l'agenda di Al Gore prenderà piede negli affari mondiali il Papa ha appena approvato un'enciclica in questo soggetto supportato dalla filosofia di Al Gore e il presidente degli Stati Uniti d'America dice dobbiamo fare questo questa gente conosce in anticipo quello che fanno e come lo fanno HDTV vale un centesimo HDTV vale un centesimo significa che tutti coloro che guardano ogni bambino che sa leggere devono avere la migliore tv per poter essere indottrinati nel modo migliore con gli ultimi effetti in modo da escludere le funzioni cognitive del cervello interessante New York 11 settembre e se vediamo Michael Jackson 20 maggio 1997 c'è lui che balla e la distruzione di New York con una grandissima nuvola alle spalle molto prima che l'evento accadesse questa è roba interessante non solo l'11 settembre c'era un episodio nel 1997 e l'evento accadde nel 2001 ci sono altri messaggi subliminali? certo qui abbiamo l'occhio niveggente e usarono solo la metà faccia per proiettare l'immagine dove stanno scartando i giocattoli avete tutti i simboli occulti presenti ricordate per questi simboli ricordate non le fanno persone stupide ma dottori laureati in filosofia e matematica e hanno una grandissima conoscenza occultista perché hanno tutti questi messaggi subliminari l'impegno di fedeltà non si esaurisce con la caduta di satana e doveva scrivere questo ancora e ancora soltanto l'espressione della faccia potete vedere come influenzano i bambini perché fanno quello che vedono vediamo un po' come iniziarono queste idee come tutto iniziò nei primi film Sammy David Jr. aveva parti importanti e lavorò con tutti questi massoni di 33esimo grado che erano i primi cowboy dei film e Sammy David Jr. era conosciuto per essere un membro della chiesa di satana apparentemente cambiò è affascinante sapere che fu anche un cavaliere di Malta e qui vediamo discutendo cose importanti con il produttore Lionel Richie il produttore di We Are The World e discute con J. Donald Monan presidente del College Jesuita di Boston e divenne il nuovo produttore musicale che fu trasmesso verso tutto il mondo perché l'umanità deve unirsi avendo un solo pensiero quindi creiamo caos falsi allarmi falsi nemici così che possiamo unire tutta l'umanità e facciamo la nazione arcobaleno e tutti i colori dell'arcobaleno che rappresentano io sono indiano io sono cinese cantando noi siamo il mondo noi siamo la gente e qual è lo spirito nascosto in questo processo mi chiedo ora continuiamo in questa era hollywoodiana moderna vi ricordo che è il diritto di nascita della chiesa cattolica di possedere e controllare tutte le produzioni dei media quindi chi realmente controlla hollywood non sono gli ebrei c'è un altro potere che controlla questa entità furono introdotti extraterrestri presero molta attenzione e vennero collegati a messaggi messianici quando nel frattempo le menti venivano condizionate su quello che sarebbe accaduto incontri ravvicinati del terzo tipo portiamo cose che possono determinare altri interventi extraterrestri o demoniaci e tutte le megastelle non nascondono quale sia la loro affiliazione come potete vedere Simon Cowell col suo simbolo massonico di fronte al suo Jet Sky non sono impauriti e oggi tutto è fatto alla luce del sole se siete interessati andate sul web e controllate ogni attore ogni attore che oggi è prominente nel mondo ogni cantante ogni gruppo e guardate alla loro connessione occulta massonica avevo questa ragazzina che iniziò a farlo e mi fece impazzire dalle migliaia di foto che mi inviava ma fece un grande lavoro tutti sono coinvolti e confessano platealmente la loro affiliazione nelle loro pagine facebook non so se ho il tempo per vedere tutte queste cose ma se siete interessati potete verificare io non sono qui per questo voglio discutere la mentalità e cosa accade dietro le scene voglio discutere uno o due o tre o quattro dei mega film questo non fu un gran successo con Nicolas Cage al cinema le stagioni delle streghe dove c'è una situazione di cavalieri medievali il conflitto con l'Islam le crociate e l'abbandono e poi c'è la strega posseduta ma la maniera in cui lo fanno con il sangue la violenza il dramma per distrarre la tua mente e poi la finiscono sempre in un'assemblea cattolica c'è sempre un monastero con informazioni segrete e conoscenze nascoste ed eventualmente anche se nel frattempo i monaci vengono uccisi questa conoscenza nascosta viene scoperta e usata questo potere demoniaco è sempre nella chiesa ed è disponibile attraverso la chiesa avete notato che ogni film ha un prete cattolico mai uno protestante tesoro nazionale le intenzioni sono esposte nella copertina con l'occhio univeggente pieno di simboli massonici nessuno dovrebbe vedere queste cose ma semplicemente ve lo dico questo è il modo in cui i bambini e la gente sono stati portati a pensare quando andiamo su esodo dei e re probabilmente è il film più pagano mai fatto e non devo discuterne lo potete anche vedere proprio in questo canale dove si discute su questo film è quello che il regista sentiva loro sono nemici di Dio loro odiano Dio chiamano Mosè come il più arrogante quando nella Bibbia era la persona più umile mai vissuta loro non credono in Dio lo distorcono modificano le parole lo ridicolizzano in ogni modo possibile non possono essere di Dio devono appartenere a un altro campo in questa enorme produzione il regno dei cieli spettacolare epica avventura il messaggio principale del film è una post illuminazione contro la violenza portata nel nome della religione è un messaggio molto potente la mia domanda è chi ha creato la violenza nel nome della religione così che infine fermi la violenza nel nome della religione c'è per caso qualche maestro stratega che di nascosto dirige le cose facendo sembrare che ci siano nemici quando in realtà non ci sono nemici stando nel campo in anticipo e usando i carri degli altri come se fossero i tuoi interessante ancora se volete trovare le connessioni gesuitiche dovete cercare un po' dovete scavare un po' ma è sempre lì nel cumulo di terra dovete cercare in giro padre Leo di Lefebvre professore teologo alla scuola gesuitica Fordham University disse sapete il film riguarda questo i tempi che si è cercato di riaffermare eccetera con un veloce discorso del prete che ha cooperato il reverendo George Dennis un prete gesuita e un professore di storia alla Loyola Marymount University in Los Angeles fu uno dei cinque esperti chiamati per il copione di Regno Celeste disse mi impressionarono le sfumature e la curatezza i cristiani sono sempre i cattivi gli altri sono sempre i buoni questa è una mentalità senza l'appoggio della storia che è stato instillato nell'umanità storicamente l'ho trovato accurato bene se hai una mente distorta io non so ma non troverai la storia della riforma in ogni forma significativa in ogni documento moderno che affronta quel soggetto dovete usare i documenti ammuffiti quando li aprite avete questo odore ammuffito e questa sensazione che nelle vostre mani avete oro perché i gesuiti hanno riscritto tutto loro possiedono la stampa possiedono la stampa così riscrivono la storia come vediamo eccetera loro parlano ma il punto è chi supporta di nascosto quello che vi sto mostrando i gesuiti i gesuiti il conte di monte cristo probabilmente uno dei più brillanti film metaforici è il conte di monte cristo che soffre molto ma poi diventa ricchissimo chi è? non è nient'altro che il generale gesuita in persona riguardo la storia il decesso e la risurrezione dei gesuiti immensamente ricchi che possono comprare il mondo intero se volessero quindi queste sono storie che impiantano e l'eroe è sempre alla fine il cattivo che trionfa sul buono facendo sembrare che il buono trionfa sul cattivo strategia brillante i film di Indiana Jones e il suo seguito il linguaggio che usano è il significato per Dio come usano i dati biblici che poi ti portano dritto al pensiero occultista e gnostico se avete preparato la mente ne uscite con film come lasciati indietro e spendono miliardi a loro non interessa spendere tanti soldi quanto costa una produzione e già nel medioevo erano criticati per gli alti costi a loro non interessa spendere milioni su milioni se non miliardi per una produzione se il fine giustifica i mezzi e la serie lasciata indietro impianta la teologia gesuita del dispensazionalismo che proviene direttamente dal campo gesuita con il cardinale Bellamin che inserisce la sua linea di pensiero a coloro di Alcasar e Riviera che venero prima per preparare il piano che elimina la mentalità protestante dove il Papa è il futuro anticristo e le rimpiazza con questo non senso sparso attorno al mondo con le mega produzioni a loro non interessa se il film in successo fallisce l'importante è far passare il messaggio il signore della guerra tutti questi sono fenomenali ora ne prendo uno dove ho sentito molta gente dire questo lo devi vedere perché ti mostra dove siamo so che molti lo hanno già esposto per quello che è ottima cosa ma assicuriamoci ancora che qui non stiamo speculando su problemi che non esistono gibson è la passione di cristo questo film ha fatto piangere il mondo evangelico come nessun altro precedentemente andiamo su alcune scene stabiliamo la connessione mel gibson che riceve il suo dottorato onorario all'università gesuita l'aiola a marymount deve aver ricevuto il suo dottorato per qualcosa di buono sapete questo non paga perché la sua vita era miserabile dopo averlo fatto ma rispetto a quali sono i pieni futuri di cui ho sentito parlare il punto del discorso è questo è una produzione gesuita con la teologia gesuita prima di andarci vediamo la profezia di zaccaria in modo da capire il contesto zaccaria 11 12 allora dissi loro se vi pare giusto datemi il mio salario se no lasciate stare così essi pesarono il mio salario 30 cicli d'argento di chi stanno parlando è una profezia su gesù cristo ma l'eterno mi disse gettalo per il vasaio il magnifico prezzo con cui sono stato dato da loro valutato allora presi i 30 cicli d'argento li gettai nella casa dell'eterno per il vasaio quindi spezzai l'altro bastone legami per rompere la fratellanza fra giuda e israele rigettarono il signore gesù cristo l'eterno allora mi disse prenditi anche gli attrezzi di un pastore insensato il buon pastore fu venduto messo da parte lo crocefissero se volete mettere da parte e rigettare il buon pastore siete soddisfatti col pastore insensato ora guardiamo al pastore insensato poiché ecco io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura dalle pecore che periscono non se ne cura non cercherà quelle giovani non guarirà quelle ferite non nutrirà quelle che stanno in piedi questo non è un buon pastore è malvagio ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino le loro unghie sarà un pastore distruttivo che vuole distruggere la razza umana guai al pastore da nulla che abbandona il gregge una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro il suo braccio seccherà interamente il suo occhio destro sarà completamente acceccato questi sono i criteri della profezia di Zaccaria e questi sono i criteri del buon pastore o del cattivo del cattivo del cattivo ricordate nel mondo dell'occulto il buono diventa cattivo e il cattivo buono andiamo nel film la maggior parte del film Gesù appare col suo occhio destro completamente rovinato c'è un simbolo dell'occhio c'è un solo occhio se apprendete il consiglio relazioni estere CFR il loro messia era nudo a proposito a proposito in questo film Gesù appare fuori dalla tomba nudo sono sicuro che apparve con il vestito della giustizia non fu nudo questo messia è nudo e mostra solo l'occhio sinistro l'occhio destro non si vede quindi qui il braccio di Gesù è dislocato così dice questa pagina web in modo da far raggiungere il buco del chiodo significando che il suo braccio dovrebbe essere pienamente esteso e sempre lineare comunque in tutte le foto di lui nella croce il suo corpo si incurva in avanti con le sue braccia piegate a un angolo di quasi 90 gradi quindi il suo braccio è secco e il suo occhio destro rovinato per essere sicuri andiamo nel mondo dell'occulto Blavatsky ora il diavolo è chiamato oscurità dalla chiesa laddove nella Bibbia è chiamato il figlio di Dio la stella lucente del mattino Lucifero c'è un'intera filosofia nella dogmatica nella ragione in cui il primo arcangelo che scatturì dalla profondità del caos fu chiamato Lux Lucifero il luminoso figlio del mattino o l'alba dell'uomo fu trasformato dalla chiesa in Lucifero o Satana perché è più alto e antico di Jehovah e dovette essere sacrificato per il nuovo dogma nel mondo esoterico Satana è più importante e antico di Gesù e la guerra tra i due si infuria e lui il fratello più grande fu privato della sua posizione ma la guarri guadagnerà quindi il bene diventa male e il male diventa bene noi ovviamente sappiamo che è un essere creato perché la Bibbia ce lo dice ma non è così nel mondo esoterico un'altra frase della Blavatsky Jehovah esotericamente è anche il serpente o drago che ha tentato Eva e il dragone è un'icona antica per la luce astrale che è la saggezza del caos quindi Jehovah è il serpente il cattivo Dio è cattivo quindi il male diventa bene e il bene è male continuiamo nel film nel frattempo che è alla croce Satana con una immagine effemminata si vede e ha fatto nascere il nuovo Messia guardate a questo bambino con le sue braccia e la sua saggezza e la sua e lo facciamo vedere voglio che guardate il sorriso di questa faccia demoniaca come guarda la croce guardate i peli nella schiena non avrebbero potuto creare un'immagine più malvagia di questa ed è virtualmente subliminale perché nessuno se ne accorge e guardate a quel sorriso malvagio il bene diventa male e il male è bene quindi dov'è appeso il male? nella croce ma il vero male è il bene perché dovete invertire tutto nel mondo esoterico attualmente questo è un simbolo di vittoria di Satana su Gesù Cristo significa questo ora assicuriamoci Gibson disse a Christianity Today mi sono stupito nel modo in cui il pubblico evangelico ha a man bassa risposto a questo film più di ogni altro gruppo cristiano quello che lo fa così stupefacente lui dice è che il film è così mariano Gibson la chiama la sua tremenda corredentrice e mediatrica quindi tutto il film è su Maria Maria è l'unica che consola tutti Maria è il grande eroe del film non Gesù Cristo un'ultima informazione su questo film il ladro penitente alla croce indossava attorno al collo la scapolare marrone cattolica quindi se guardate il film lui indossa questa scapolare la Bibbia non ne parla cos'è la scapolare? la scapolare è una struttura che ti porti appresso che ti garantisce che Maria ti fa saltare il purgatorio per portarti direttamente in paradiso quindi c'è una promessa a Maria non a Dio quindi Gesù potrebbe non avergli dato il permesso di andare in paradiso un giorno è Maria che deciderà chi va e chi no ma sappiamo che Maria è un acronimo di Lucifero perché era immacolata senza bisogno del giorno dell'espiazione e poi quel Gesù disse è realizzato invece che è finito secondo Roma fu l'Eucaristia ad essere realizzata la croce ora questa realizzazione è interessante l'Eucaristia il sacramento per la nostra salvezza realizzato attraverso Cristo nella croce è anche un sacrificio di preghiera nel ringraziamento dell'opera di creazione dice il Catechismo della Chiesa Cattolica fu realizzato quasi consumato e c'è il sacrificio perpetuo di Gesù Cristo il continuo commercio nascosto del Figlio di Dio tenendolo morto in perpetuo adorato da morto questo film è malvagio e puoi vedere la malvagità sottointesa subliminale è il peggior gnosticismo confezionato e venduto ai cristiani come la rappresentazione delle sofferenze del Figlio di Dio è un film malvagio Giovanni 19,30 quindi Gesù quando prese l'aceto disse è stato consumato e chinando il capo rese lo spirito così dice la Bibbia 2A Rimes che è la Bibbia ufficiale di Gesuiti laddove una Bibbia decente direbbe Giovanni 19,30 quando Gesù ebbe preso l'aceto disse è compiuto è chinato il capo rese lo spirito la definizione di Traier portare alla chiusura finire il sacrificio è completo ma nel film non è completo un altro film interessante con Mel Gibson e Julia Roberts è ipotesi di complotto c'è gente che ama parlare di cospirazionisti e ce ne sono alcuni incredibilmente confusi ma se hai il filtro della Bibbia e delle profezie e fai passare tutto attraverso quel filtro quello che ottieni è in armonia non solo con la storia e gli eventi correnti ma anche con le profezie non è cospirazione è alleanza la Bibbia dice non chiamate con giura tutto ciò che questo popolo chiama con giura credo alle alleanze non alle cospirazioni questo film è interessante perché lui è un soggetto a controllo mentale monarchico e tutta la questione ti spiega chiaramente come fanno e questo accade davvero nel mondo puoi programmare chiunque a fare qualsiasi cosa puoi creare i mega criminali e gli assassini da piccoli da bambini a scuola non c'era nessuno che impazziva e massacrava la gente a scuola ma ora accade regolarmente i ragazzi sono cambiati no qualcosa è accaduto dietro le quinte tutti questi attori sono coinvolti la cosa interessante di questo film è proprio un flash questo libro appare costantemente nel film e Gibson è in uno stato di controllo mentale cercando di avere copie di questo libro che gli sparisce costantemente e resta nella libreria per pochissimo e poi sparisce dobbiamo guardare attentamente non suggerisco a nessuno di farlo si chiama il raccoglitore di segale voglio capire di cosa parla il raccoglitore di grano deve essere importante e chi ha suggerito che qualcosa che si trova nel film ho ricercato ed è difficile da trovare fino a quando ho trovato qualcosa di interessante un libro interessante il segreto della zuppa gesuita scritto dal fratello gesuita Rick Curry SJ società di Gesù ed è un libro di ricette ma ogni libro scritto da un gesuita cos'ha? ha uno scopo e ha sempre la mentalità della società guardando il suo voto ed è soggetto al generale gesuita ed è allacciato con tutta la filosofia gesuita e parla dei suoi giorni da studente eccetera e parla del suo curriculum eccetera e dice una cosa interessante il curriculum di San Giuseppe era nel vecchio stile del pensiero razionale ora le parole razionalismo e non pensiero biblico il primo piano di studi gesuita pubblicato nel 1599 fu trovato in tutti i licei gesuiti americani di quei tempi eccetera eccetera state capendo questo insegnamento questo insegnamento ebbe un enorme impatto su di lui che divenne gesuita e la sua classe ebbe il libro il raccoglitore di segale ahah quindi gesuiti leggevano quel libro che era subliminalmente dappertutto non ricordo molto quella storia ma ricordo che questo padre gesuita disse questo era il tipo di novella che devi leggere ancora e ancora lungo tutta la tua vita ero interessato riguardo a cosa dicesse riguardo la ribellione è scritto brillantemente è il normale sviluppo del giovane e questo ragazzo sviluppa la ribellione è come esercita la ribellione ed eventualmente cambia il mondo attraverso la ribellione ma in un modo così brillante è che colui che si ribella contro i genitori la società eccetera diventa il più grande santo di tutti chi era il più grande ribelle in paradiso satana e non vuole apparire come il più grande santo quello sbagliato quindi sta impiantando una mentalità una mentalità ribelle contro l'ordine quale ordine vogliono distruggere i gesuiti il protestantesimo quindi dovete ribellarvi contro il protestantesimo uno dei film più malvagi dei gesuiti è Vi per vendetta in questo film c'è un uomo mascherato perché fu gravamente ferito in un incendio quindi passò attraverso il fuoco delle afflizioni e la trama dei gesuiti è il complotto della polvere da sparo dove volevano far saltare in aria del Parlamento e il re Giacomo ancora che sia un falso allarme o un doppio falso allarme ora non lo affrontiamo ma il Parlamento britannico era il loro bastione del protestantesimo che scacciò i gesuiti e la mentalità gesuita ed erano protestanti quindi era il nemico finale che doveva essere distrutto e Guy Fawkes e sei gesuiti volevano far saltare in aria il Parlamento britannico e il re eliminando il mondo dai protestanti la maschera è la faccia di Guy Fawkes a cui fu data la pena di morte ma nel film costantemente ricordano che questa storia non è mai stata dimenticata quest'uomo non è un villano ma un eroe soltanto nella storia hanno gestito una cosa del genere perché ogni anno lo stesso giorno in cui provò a far esplodere loro celebrano Guy Fawkes è un'occasione gioiosa i bambini non vedono l'ora hai reso positivo quello che è negativo e userai vantaggiosamente il negativo hanno usato Shakespeare per scriverlo ma io lo dubito il loro superiore gesuita glielo scrisse la sua supervisione gnostica della sapienza dei medici filtra tra la gente come un prendersi gioco di questa malvagità dei gesuiti eventualmente come conseguenza i gesuiti possono operare o almeno lo possono i cattolici in Inghilterra devi essere un super stratega in questo film questa giovane donna preme il pulsante prima che lui morì diventando un acronimo di Maria che è Lucifero che distruggerà il protestantesimo e anche se fallirono nel loro primo tentativo ci riusciranno la prossima volta e questa è una locandina lui fa il simbolo massonico la croce di coltelli che trovate dappertutto nella massoneria e nella massoneria gnostica la X è un simbolo antico secondo Jim Tresner trentatresimo grado del giornale del rito scozzese la X è un simbolo antico per il cambiamento o trasformazione associato da molto tempo nell'arte medievale e rinascimentale con l'arrivo del Messia che farà nuove tutte le cose questo è un film religioso che mostra la vittoria di Satana e l'ordine dei gesuiti sui protestanti rovesciandoli ecco perché nelle cattedrali avete sempre l'oiola in piedi davanti a Martin Luther schiacciandolo e strappandogli la Bibbia dicono molto apertamente chi sia il loro nemico in questo film questa è una foto artistica del Parlamento e appunto tutti i palazzi sono esplosi e sono completamente distrutti nulla è rimasto ma l'orologio indica è l'ora finale è finito ci sono riusciti il lavoro è compiuto il protestantesimo è la teologia basata sulla Bibbia sono spariti ed eventualmente quest'uomo mascherato che rappresenta Guy Fawkes è lo sforzo di vincere il protestantesimo la maschera è indossata da tutta la nazione cosa significa significa che l'intera nazione attraverso il tempo è stata indottrinata ad avere lo stesso carattere e forma e pensiero che loro hanno quando la Bibbia dice riguardo la faccia di Dio Mosè non poteva vedere la faccia di Dio poteva vederlo da dietro perché nessuno può vedere la faccia di Dio e vivere così io ti nasconderò dietro una roccia e ti coprirò con la mia mano e passerò e poi il carattere di Dio è dato nella forma poetica più bella la faccia significa il carattere la mente il pensiero tutto il mondo si meraviglierà dietro alla bestia sarà indottrinato ad avere la mentalità che essi vogliono voglio sapere dove ci porterà questo e come andremo avanti con tutto questo qui voglio solo chiarire un paio di punti la lista di attori usata da questi criminali papali la fonte è Vatican Assassins questi uomini hanno una bocca che è molto luciferina diciamo ma quello che dice in modo molto duro è comunque corretto la lista di attori usata da questi criminali papali è impressionante Hollywood è praticamente un teatro gesuita nulla di più gli ebrei coinvolti sono ebrei della corte papale che adorano il loro dio mammona eccetera per la compagnia militare di Gesù ora se scrivi in questo modo così duro forse la gente dice gli sta bene allora non interessa non mi stupirei se anche qualche attore la pensasse in questo modo il Cavaliere di Malta Jack Valenti fu a capo dell'associazione cinematografica americana se volete sapere chi controlla i megastudio nel 2004 il signor Saxton fu introdotto come Cavaliere di Malta possiede possiede tutte queste grandi compagnie gli studi di Hollywood controllano davvero gli ebrei? nel nostro mondo c'è un'abbondanza di spettacoli teatrali ora leggiamo da una buona fonte vedete questa mentalità è raggiunta attraverso il teatro attraverso grandi spettacoli che escludono la cognizione ora vediamo come fa Dio nello spirito di profezia nel nostro mondo c'è un'abbondanza di spettacoli teatrali ma nella sua forma più alta è senza Dio è una dichiarazione affascinante ora dobbiamo puntare l'anima all'edificante salvatore inganni imposizioni e ogni opera malefica sono nel nostro mondo Satana la volpe astuta vestita da angelo opera per ingannare e distruggere l'oggetto della morte di Cristo dichiarò la sua giustizia e nessun uomo donna o bambino può farlo con la sua propria forza o attraverso le sue parole c'è una falsa giustizia raffigurata in questi film c'è un'altra dichiarazione da Adventist Home attraverso il dramma lui ha operato per anni per esercitare le passioni e glorificare il vizio l'opera con il suo spettacolo affascinante e sconcertante musica le maschere il ballo le carte da tavolo Satana le usa per rompere le barriere dei principi e per aprire la porta alla sensualità e all'indulgenza quindi ci sono due modi per riscrivere elementi uno attraverso il teatro e uno attraverso la parola spettacoli e teatri la passione dominante di Satana è di pervertire l'intelletto e causare all'uomo di desiderare spettacoli e opere teatrali l'esperienza e il carattere di tutti coloro che vengono a contatto con queste opere sarà concorde col cibo dato alla mente il Signore diede evidenza del suo amore per il mondo non c'era falsità nessuna finzione in quello che fece è interessante ci sono due mentalità contrastanti quale delle due è più popolare in questo mondo? bene è ovvio ora avviciniamoci alle storie moderne per bambini e scopriamo qual è il vero messaggio e come vengono indottrinate le menti eventualmente dove ci porta? questo mi appassiona davvero nella Grecia antica il Dio Apollo e Artemis o Pan e Diana e altri nomenclature erano deità molto conosciute menzionate anche nella Bibbia c'è Diana degli Efesini lei è la dea della fertilità e moglie del Dio Pan Pan ha due lati il lato di capra il lato cattivo dove suona il pan flute è il Dio della sessualità e rugisce nella foresta causando panico ecco da dove proviene la parola panico pan caos stupra sin furia è violento e poi ha il lato buono il buon pastore dove si cura delle pecore è il buon pastore questa è una affascinante alternanza di bene e male perché ha una filosofia yin yang tutti hanno due lati Dio dice no non devi essere malvagio devi essere solo buono non devi essere bilanciato attraverso il male per fare prevalere il bene questo è il Dio Pan nella forma malvagia con il suo flauto ma non deve essere sempre mostrato con le sue corna e nella sua forma di capra se andiamo ai film animati come quello che trovate in Peter Pan della Walt Disney allora ci sono gli scrittori e le organizzazioni sappiamo Walt Disney era un massone di 33esimo grado ed era pieno della sapienza dei medici gli gnostici i gesuiti erano alle sue spalle perché insegnavano la sapienza dei medici nel mondo sono gli unici che la controllano sono gli esperti nell'arte occulta e nell'ognosticismo e cabalismo in questo film ci sono molti personaggi interessanti Peter Pietro Pan Wendy Giovanni Michele Darling e la madre che è chiamata Maria ovviamente e chi è Peter Pan e chi è Wendy Peter Pan ha anche un interessante nome cabalistico perché Pan il dio malvagio ha una consorte che è Diana ma ha anche un rappresentante in questo mondo che si chiama Peter Pietro se capite cosa intendo e in questa teologia c'è una entità femminile che è la mediatrice chiamata Maria se analizzate i nomi avete Peter Pietro Pan Wendy Giovanni e Michele ora il nome Giovanni nel mondo occulto diventa un acronimo per qualcos'altro parliamo un po' di questo vi mostro un altro lato di Peter Pan ha sempre questo cappello con una piuma è una replica non dobbiamo andare nel dettaglio comunque ricordate che Peter Pan ha questo cappello in testa ovviamente è alieno non di questa dimensione e ci sono i tre piccoli bambini Wendy Giovanni e Michele vediamo le personalità le trovate facilmente nel web non devi essere uno scienziato per scoprirle senza essere dei geni Giovanni si mostra molto sofisticato rispetto alla sua età spesso parla in modo sofisticato e Michele il suo fratellino lo imita e ripete in maniera stupida in altre parole esempio Giovanni oh come vorrei davvero incrociare le spade con qualche vero bucaniere Michele sì e combattere pure con i pirati ovviamente è la stessa parola una è sofisticata l'altra no ora vi porto in paradiso nel pensiero occulto chi è il fratello maggiore in paradiso? Satana chi è il fratello giovane e stupido in paradiso? Gesù qual è l'altro suo nome? Michele ok notate che il suo fratellino è interessato ai pirati che può spiegare perché faccia la parte di Capitanuk ora Capitanuk è il buono o il cattivo? è il cattivo il malvagio e Michele vuole fare la parte del? malvagio e combattono con le spade queste sono le spade con cui combattono e sono scene divertenti piacciono sia ai bambini che agli adulti potete vedere che la spada può essere usata come croce questa è una battaglia per la vostra anima ora quanto lontano si andrà e cosa significano gli acronimi? assicuriamoci ho mostrato questa foto in una vecchia lettura in un famoso monastero una cattedrale in Europa dove i grandi politici mondiali si riuniscono decidendo le cose del nuovo ordine mondiale vengono qui a decidere e nel giardino nel giardino ho trovato la statua chiamata Davide e Davide è dipinto come il buon pastore ma nelle sue mani ha il pan flute il flauto di pan e Davide non suonava il flauto di pan ma l'arpa quindi questo non è Davide ma il dio pan e ho capito vedendo la statua che questo è il dio pan nella sua forma buona dove c'è il buono c'è sempre il malvagio quindi nella cattedrale ci deve essere la forma malefica per bilanciare e completare il posto esoterico cabalistico ho cercato dappertutto e l'ho trovato in mezzo a tante altre cose nel rilievo del palazzo ed eccolo lo vedete il dio pan nella sua forma malvagia come dio capra questo è pan che loro adorano ma pan ha un rappresentante in questo pianeta e quel rappresentante ha anche un generale e secondo la riforma protestante è il papato che loro identificano come l'anticristo andiamo dal papa e vediamo quello che indossa e come lo mostra ora papa francesco decise di usare di lasciare la croce d'oro usando quella d'argento che era abituato a usare come la sua croce papale su di essa c'è l'emblema del buon pastore la domanda è giuno e la colomba una forma pagana della deità giuno che non è il simbolo dello spirito santo la domanda è questo buon pastore rappresenta Gesù o il dio Pan e Pan appunto è Satana è questo che è ora vedete che ha le braccia incrociate così Gesù non è mai dipinto con le mani incrociate invece Osiride lo è come abbiamo visto la croce è un simbolo di vittoria è un nuovo ordine portato dall'imminente Messia che è l'adorazione di Lucifero che precede il ritorno di Cristo questo dio qui per sua natura è il dio Pan ma ora facciamo una speculazione andiamo al suo predecessore pensionato che è Papa Benedetto eccolo questa è la sua incoronazione e riceve una mitra e nella sua mitra c'è una Deità mostrata ho provato a incrementarla ma la qualità non è buona ha la croce ricurva la croce ricurva simbolo di vittoria su Gesù con Gesù appeso ma questa Deità qui sta suonando uno strumento e si riconosce essere il flauto di Pan quindi abbiamo il dio Pan proprio nella sua testa il rappresentante di Satana in questo pianeta questo ci dice il simbolismo che vi piaccia o no sembrerà incredibilmente duro e chiedo scusa per dirlo così direttamente torniamo indietro a un altro film che usano come acronimo loro possono prendere pezzi di storia e invertirli per alludere la loro esistenza Robin Hood e Little John la famosa coppia della foresta di Sherwood colui che prendeva i ricchi per dare ai poveri in questo mondo chi si preoccupa di più per i poveri chi c'è in questo pianeta non è il Papa dice sempre che dobbiamo prendere i ricchi per dare ai poveri è l'ultimo Robin Hood in questo pianeta ora in questa storia in Inghilterra hanno fatto pure la statua a nuovo glorificato la storia che ha un'origine antica ma è stata simbolizzata per incoronare le loro necessità nell'animazione di Walt Disney c'è Giovanni che è il più sofisticato il più furbo colui che ruota la spada nel precedente Giovanni Peter Pan Maria e Giovanni può solo essere un acronimo colui che ruota la spada può essere il Papa Bianco o il Papa Nero è il Papa Nero ok torniamo alla storia abbiamo il piccolo Giovanni e Robin Hood nella forma animata ma vi voglio mostrare il cappello che indossano e vi voglio ricordare di Peter Pan che ha il cappello con la piuma usano lo stesso simbolismo nella storia Robin Hood ha la sua banda di uomini nella foresta e combatte contro il Lord cattivo che controlla l'Inghilterra l'Inghilterra rinnegava sempre lo Stato Papale e doveva sempre essere sottomesso i malvagi sono coloro che controllano l'Inghilterra mentre i buoni sono coloro che si prendono cura dei poveri cosa che gli altri non fanno ancora il buono diventa cattivo e viceversa nella storia un giorno incontra Little John e dice cosa fai qui e iniziano a combattere sopra il tronco eventualmente Little John vince la battaglia e colpisce e colpisce Robin Hood che cade nell'acqua e ridono diventano amici e lo prende nella sua banda e Robin Hood gli dice tu sei il più grande forte e migliore in battaglia rispetto a me guiderai tu la gente ma Little John declina no 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 tu guiderai la gente ma quando Robin Hood viene catturato Little John guida la gente nell'acronimo chi è chi Robin Hood è il capo di facciata e Little John è il potere dietro al capo di facciata Robin Hood è il papato e Little John diventa il papa nero sono il papa bianco e il papa nero vediamo come si schiude il suo nome è Giovanni di chi è il nome di Giovanni tutti si chiamano Giovanni che è un acronimo loro si riferiscono a Giovanni il Battista e vedremo perché in un momento News UK Jihad John estremisti non radicalizzato nel MI5 quindi si dice che il MI5 radicalizza i suoi nemici tornando indietro nella storia è affascinante che tutti i cosiddetti nemici erano addestrati non solo venivano addestrati ma ricevevano armi da coloro che poi diventavano i loro nemici il Mossad addestrava molti dei jihadisti i gruppi terroristi Al Qaeda e gli altri questi sono i gruppi che sono stati preparati questo brutale omicida vestito di nero ha l'acronimo di Jihadi John ma non è il suo nome reale il suo nome è Mohammed e Muazi che non c'entra nulla con Giovanni e poi in tutte le notizie hanno messo l'immagine di Jihadi John che taglia la testa alle sue vittime ora domanda domanda questo è reale o questo è quello che vogliono farti pensare tutto quello che dovete fare è andare sul web e vedere la gente conosciuta nel mondo tecnologico e ci sono migliaia di pagine web che ti dicono questa è probabilmente la peggiore produzione hollywoodiana mai fatta ma non ci interessa ma ci sono scettici che pensano che non sia mai accaduto vediamo i vari attori chi sono e cosa è successo secondo USA Today James Foley studiò al collegio cattolico gesuita nel Milwaukee i gesuiti sono coinvolti leggendo sui jihadisti ci sono gesuiti coinvolti i preti gesuiti che spariscono e non riappaiono gesuiti sempre lungo la linea è possibile che siano loro gli ideatori allenatori come lavorano questi maestri nascosti sono loro a creare nemici sono loro a muovere le corde dietro la scena non raggiungono il loro obiettivo attraverso la dialettica hegeliana non creano il nemico che unisce l'umanità queste sono domande che voglio sollevare tutti loro che hanno studiato in college gesuiti sono anche stati allenati teatralmente e se guardiamo alla scena politica e ai grandi capi mondiali Giovanni Paolo II non faceva l'attore la sua controparte era Ronald Reagan non era un attore sì il governatore della California non è un attore Schwarzenegger non è un attore c'è molta teatralità coinvolta sia che la cosa sia vera o no il mondo deve essere scioccato da queste decapitazioni decapitare è la cosa peggiore se andate su Wikipedia Giadi John è anche chiamato John the Beetle John Lennon del Beetle era famoso per essere un adoratore di Lucifero ed era controllato direttamente dai gesuiti i gesuiti controllavano i Beatles e lui disse ho venduto la mia anima a Satana ed è anche chiamato Jaila John ora Giovanni appare troppo frequentemente per i miei gusti sono pseudonimi associati con i membri dello stato islamico dell'Iraq e ISIL e ISIS e hanno decapitato molta gente ok ora avete tutti questi acronimi andiamo avanti i gesuiti l'ebola e le decapitazioni si cerca di far avanzare il nuovo ordine mondiale non sono interessato alla qualità di questa pagina web che sia una pagina buona o cattiva è irrilevante a questo punto perché la gente ci crede lo stesso ma quello che è vero è che la massoneria della magia nera ha un simbolo per i gradi dal nono all'undicesimo con una testa decapitata con una spada corta lasciate che vi dica un piccolo segreto perché usano il simbolo di un individuo decapitato e perché il nome Giovanni è sempre associato a queste organizzazioni perché Giovanni il Battista è il supersanto per molti movimenti esoterici e occultisti vi do qualche dettaglio questa è UK Column il 24 giugno giorno di Giovanni Battista fu disegnata come giornata di festa massonica nel quale i membri dovevano radunarsi fare certi riti e partecipare a mangiare insieme eccetera eccetera ora arriviamo al nocciolo della faccenda il gruppo della taverna dell'uva menzionato nel capitolo di Poe fu chiamato la loggia di San Giovanni numero uno il satanista Alistair Crowley un massone di trentatresimo grado che influenzò tremendamente i Beatles a proposito a volte usava il soprannome Giovanni San Giovanni John San John quando si usa Giovanni come soprannome è un segno che c'è una connessione occulta ma questo uso non ha a che fare con la pietà Alistair Crowley fu uno dei più uomini diabolici con i rituali più diabolici che non potete nemmeno immaginare di cui non si può parlare in posti rispettabili attualmente questa è una violenta beffa quella che si ricorda è come Giovanni Battista morì è una continua fonte di celebrazione che ricorda costantemente cosa può succedere a coloro che sono contro la massoneria ma questo è solo il pensiero massone ora approfondiamo per vedere come il pensiero gesuita è un ricordo costante della vittoria di Satana su Gesù Cristo l'abbiamo visto nel film La Passione di Cristo dove invertono le cose quando tagliano la testa a Giovanni il Battista simboleggia la vittoria di Lucifero sopra i seguaci di Gesù Cristo loro celebrano la decapitazione non il santo capite? ok bene come morì Paolo? nello stesso modo se andiamo tra i nomi dei papi ci sono 23 papi col nome Giovanni 23 col nome Giovanni cosa intendono con questo? intendono Giovanni il Battista o l'altro Giovanni? loro non lo dicono ma è Giovanni il Battista e hanno sei papi col nome Paolo e hanno due papi col nome Giovanni Paolo questo è un doppio colpo mettendoli assieme nei loro nomi cosa stanno intendendo e da quale parte stanno? so di essere in terreno pericoloso chiudiamo la parentesi ma andiamo avanti Joseph Ignace Guillotine fu un fisico francese che nel 10 ottobre 1789 propose l'uso di questa macchina per la pena di morte in Francia la guigliottina ma non hanno detto che fosse anche un gesuita quindi chi è il miglior tagliatore di testa in questo pianeta? Jihadijon o l'ordine dei gesuiti? è quello che fecero nella rivoluzione francese per portare a un nuovo sistema di governo ne abbiamo parlato precedentemente in Apocalisse 11 la bestia che sale dall'abisso con la sua filosofia atea sarà controllata da gente che decapita per celebrare la vittoria su Cristo quanto malvagio è per questa gente che dimenticano la storia da cui provengono e malvagità ai massimi livelli questa è la cattedrale di San Giovanni il Divino è la più larga cattedrale del mondo è una cattedrale episcopale che ovviamente è completamente controllata da occultisti e massoneria come chiunque può trovare con un minimo di ricerca solo il nome è una blasfemia perché San Giovanni non fu divino solo Satana dice che l'uomo può diventare divino questa cattedrale di San Giovanni il Divino ufficialmente la chiesa cattedrale di San Giovanni il gran divino nella città e diocesi di New York loro non ti dicono se sia Giovanni il Battista o l'altro Giovanni è abbastanza per qualche tempo appesero la statua femminile di Cristo che da sola è una blasfemia e fu scolpita dalla nipotina di Sir Winston Churchill il cui grembiule massonico è in mostra nella loggia britannica questa è massoneria e in questa cattedrale hanno la benedizione della bestia dove tutti gli animali mucche capre orsi tutti i tipi di creature sono inserite e tutti questi animali sono benedetti interessante quindi un Cristo femmina e questo è un sito web interessante e dicono che la distruzione di New York City incluse le torri gemelle scolpite nel muro del palazzo perché questa cattedrale cambia continuamente ogni cosa è cambiata ogni giorno qualcosa è aggiunta proprio come i gesuiti continuamente al lavoro e c'è un pilastro che mostra la distruzione a New York City col fumo dietro proprio come avete visto nei simpson e nella copertina di michael jackson c'è qualcosa c'è qualcosa che stanno facendo di nascosto ma non solo hanno il tempio della comprensione in questa cattedrale che è delle nazioni unite che sono pronte a portare la religione unica mondiale che come abbiamo visto precedentemente hanno firmato l'accordo per l'unità delle religioni siamo diretti verso una mentalità che ogni religione deve unirsi chi è il nemico? il nemico è l'estremista e gli estremisti ci uccidono e ci decapitano e fanno esplodere bombe eccetera paura è un meccanismo per unire tutta la gente lasciate che vi chiarisca anche se i simboli sono corretti o no non è importante non è importante la domanda è dove ci portano perché dicono il fine giustifica ai mezzi se il risultato finale concorda con quello che la Bibbia ci dice che accadrà io so chi c'è dietro rispetto a chi ha ragione o no questo è il punto quindi vediamo dove siamo diretti segretario estero britannico Robin Cook un uomo molto attivo lo trovarono morto ma lasciatela così disse la verità è lui è in piedi al numero 10 di Downing Street altamente politica altamente posizionato nell'istituzione e disse la verità è non c'è nessuna armata islamica o gruppo terroristico chiamato Al Qaeda e ogni ufficiale dei servizi segreti informato lo sa disse ma c'è una campagna di propaganda per far credere al pubblico che ci sia un'entità identificata che rappresenta il male per portare chi vede la tv ad accettare una guida unificata internazionale per una guerra contro il terrorismo la nazione dietro questa propaganda sono gli Stati Uniti così lui dice e poi morì non c'è Al Qaeda ora ogni persona informata vi dirà che Al Qaeda fu creata e finanziata da poteri americani e di altri posti nel mondo addestrati dalle organizzazioni che poi divennero i loro peggior nemici è un'organizzazione di facciata non esiste cosa dice? non esiste se non funziona più la rimpiazzi con un'altra che non esiste anche se ha un nome Isis anche se è famosa anche se apparentemente taglia teste di studenti gesuiti personalmente non credo a una sola parola ma c'è un'agenda e ho la Bibbia che mi dice qual è questa agenda e devo focalizzarmi a quello che mi dice la Bibbia l'agenda è la distruzione di Cristo e i suoi seguaci questa è l'agenda non ce n'è nessun'altra il mio nemico non è lì ma proprio qua proprio qua Juan Luis II un gesuita nato in Uruguay e residente in Canada scrisse Teologia è la Chiesa nel 1985 che porta il sottotitolo una risposta al cardinale Ratzinger e un avviso alla Chiesa questo è un gesuita che dice pubblicamente al Papa di andare a quel paese ovviamente sappiamo che i due sono in combutta e sappiamo che uno è il generale e che può ascoltare un comando o ignorarlo eccetera e c'è un tunnel nascosto loro discutono su come creare confusione usando i due opposti fate attenzione è un gesuita che scrive un libro del genere è una difesa di ogni prete gesuita che si mette in spalla alla carabina è la cosa che fanno i gesuiti ci mostrano la carabina e entra nella giungla dei guerriglieri chiarifica il perché i gesuiti possono essere ministri col di castero nei governi marxisti perché i gesuiti possono attaccare gli insegnamenti di Giovanni Paolo II sulla moralità sessuale quindi il Papa Bianco dice i contraccettivi sono malvagi dobbiamo avere queste relazioni e gli altri dicono preservativi gratis sesso libero libero questo libero quello dialettica egheliana tra un attimo vedremo come funziona perché i gesuiti passano i loro giorni e le loro vite risolvendo problemi di unione in quel senso unioni portano un tempo di tribolazioni come mai prima gesuiti organizzando i lavoratori della canna da zucchero dirigendo fabbriche costruendo case economiche aiutando la federazione dei genitori americana a spargere l'uso dei profilatici conducendo ospedali in tutta la nazione reti di ambulatori organizzando dimostrazioni politiche per questo e contro quest'altro in base a come i problemi del giorno sono presentati attraverso l'autorità dell'insegnamento delle persone della chiesa queste sono le azioni della nuova fede sinceri alla nuova teologia secondo in base a chi ha bisogno del materiale deve essere l'oggettivo primario degli sforzi della chiesa nulla sul vangelo chi se ne frega del vangelo quindi secondo questo gesuita secondo questo gesuita dove sono coinvolti i gesuiti dappertutto dappertutto e se pensi che non esistono sono loro che vogliono che la pensiamo così sono ovunque Papa Francesco disse io lamento la legislazione fatta dagli Stati Uniti d'America noi dobbiamo parlare di moralità e cosa fanno i suoi soldati questo è Cardinale Dolan il nuovo uomo del quartiere capo dei cavalieri di Malta negli Stati Uniti ha preso il posto del Cardinale Hagan che morì eccolo lì e dice che il Cardinale fu la migliore cosa sotto il sole e il suo primo lavoro ufficiale è marciare tra le vie di New York con gli attivisti gay quindi pensate che la mano sinistra non sa quello che fa la destra loro sanno bene quello che fanno dialettica è hegeliana ma quello che è interessante c'era uno scontro Cardinale Timothy Dolan nonostante lo scontro con i fedeli cattolici scontenti con le decisioni degli organizzatori per permettere apertamente al gruppo di attivisti omosessuali di marciare nell'evento ma Dolan disse sono luminoso come il sole e ringraziamo Dio per l'onore e la gioia disse il Cardinale Dolan il martedì mattina non è interessante il commentatore cattolico Michael Voris e il suo gruppo presenti alla parata poterono interrogare Dolan sulla sua decisione durante un'intervista su eminenza avete qualcosa da dire ai cattolici fedeli che trovano un grande scandalo della fede in quello che fate no dai entrate ci piace averti replicò Dolan la decisione controversa spinse la lega cattolica e almeno una scuola cattolica a uscire fuori dalla parata nel frattempo 5.000 persone firmarono una petizione sollecitando il Cardinale Dolan a ritirarsi dall'evento non vollero il Cardinale rifiutò di ritirarsi non ho nessun problema penso che la decisione si assaggia eccetera eccetera la Chiesa Cattolica si presta bene ad assorbire nei suoi ranghi tutti quelli che vogliono morire nei loro peccati insieme a quelli che vogliono salvarsi con le loro opere chiunque è ammesso ora vediamo ora vediamo dove la guerra al terrore e al pensiero dialettico ci porteranno vi mostro come manipolano le menti Gesù e Charlie appunto i Simpson parteciparono fu un grande attacco terroristico il mondo ha paura della jihad e di jihad di John che arriva col suo coltello arriva col suo coltello uccidiamo un po' qui e un po' lì il generale non disse possiamo sacrificare anche qualcuno dei nostri per raggiungere il nostro obiettivo i Simpson hanno simpatia con Gesù e Charlie ancora i musulmani chiamano per bandire la diffamazione della religione con eccezioni non vogliamo la diffamazione delle religioni si prova a far passare questa legge attraverso le Nazioni Unite ma furgettato dicono non dovete dire nulla contro le altre religioni vogliamo questa legge ma quando la Chiesa lo chiede dicono Chiesa è stata sono separati non lo faremo quindi mandano i jihadisti per chiederlo mandiamo loro e le organizzazioni di facciata a chiederlo il Parlamento tedesco disse dobbiamo essere capaci di permettere penalità di morte mirate sapete che la pena di morte è stata rimossa nel mondo ma la Bibbia cosa dice quando sarà emanato il marchio della bestia cosa diranno non si potrà comprare o vendere ed eventualmente ci sarà la pena di morte oh come può accadere i parlamentari lo dicono già se è un terrorista dobbiamo solo ridefinire la parola terrorista decapitatelo interessante come questi terroristi riescono a scappare sempre nessuno li cattura o sa dove sono ma la stampa ha discussioni irregolari con loro come i preti gesuiti leggete la stampa l'onipotente CIA non può trovarli e l'ISIS il più grande nemico mai visto l'America dice non ci andiamo se l'esercito iracheno non ce la fa bene impareranno tramite il dolore ce la faranno e la tv dice scusate come fanno le armi ad arrivare all'ISIS o le hanno confiscate hanno confiscato i carri armati sono per caso andati al supermercato per comprare queste cose chi dà armi del genere come prendono armi del genere fatevi qualche domanda se questo è il più grande nemico mai visto perché non confrontarlo no 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 inviamo un esercito patetico che perderai subito comunque mandali a farlo così prendi due piccioni con una fava è una è una strategia brillante la casa bianca si oppone invoca a focalizzarsi sul terrorismo islamico in un incontro di tre giorni sul terrorismo no 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 non possiamo dire che il problema sono gli islamici il problema è il terrorismo ma chi taglia le teste scusate chi apparentemente le taglia è Gia Di John è l'ISIS dobbiamo temere l'ISIS non dobbiamo condannarli no dobbiamo condannare sono gli estremisti roba fascinante la conferenza internazionale che inizia martedì a Washington cercherà dei modi per scoraggiare il terrorismo nella nostra nazione è stato criticato da repubblicani per il fallimento di isolare gli estremisti islamici per un controllo accurato guardate gli attacchi terroristici quante teste vuoi perdere quanta gente vuoi vedere morta loro sono il problema no non lo sono mi domando chi è il problema Papa Francesco gli attacchi parigini sono il risultato di deviati dalla religione Papa Francesco chiama le comunità religiose a condannare il terrorismo specialmente i capi musulmani disse esprima la speranza che i capi religiosi politici e intellettuali specialmente quelli della comunità islamica condannando tutte le interpretazioni fondamentaliste e estremiste religiose che tentano a giustificare questi atti di violenza quindi l'uno non esclude l'altro Vatican Radio Papa Francesco la religione non deve essere confinata alla coscienza personale scusate qui abbiamo una discussione con il presidente italiano Sergio Mattarella e dice l'ordinato sviluppo dei requisiti di una società civile e pluralistica che l'autentico spirito religioso non è confinato alla coscienza personale è in armonia con la Bibbia sì o no? no no ma che il suo ruolo più significante nella costruzione della società è riconosciuto dice Papa Francesco nelle sue osservazioni al presidente italiano attraverso lo scambio indipendente di Chiesa e Stato la responsabilità comune quale tipo di legislazione vogliono? loro vogliono unire Chiesa e Stato per regolare la coscienza attendiamo qualcosa del genere? non è lo scenario profetico di Apocalisse 13? ok Ban Ki-moon propone incontro di capi religiosi alle Nazioni Unite il segretario ONU Ban Ki-moon ha annunciato durante l'incontro contro l'estremismo violento tenuto in Washington eccetera l'incontro ha fatto incontrare i rappresentanti di 60 nazioni e il Papa sta per parlare all'ONU c'è una grande crisi nel mondo dobbiamo risolvere questo problema in un discorso avvisò dell'apice di una nuova generazione di un gruppo terrorista transnazionale lo sentiamo sempre più e Papa Francesco Papa condanna fondamentalismo religioso violenza nel Medio Oriente Papa Francesco condanna fortemente la violenza nel Medio Oriente di venerdì in un'intervista col Vaticano eccetera dice anche se un gruppo fondamentalista non uccide nessuno anche se non colpisce nessuno è violento ora diventa interessante la struttura mentale del fondamentalismo è violenza nel nome di Dio ok quindi chi include qual è la definizione di fondamentalismo il pensiero protestante che prende la Bibbia letteralmente sanno da dove arriva il problema chi può far parte di questo gruppo di fondamentalisti che non colpisce nessuno e non uccide nessuno ma dalla loro filosofia sono classificati come violenti sono interessato per favore dimmelo la chiesa cattolico romana non ha nessun problema dice la gente che pensa che le scritture devono essere la sola autorità devono logicamente diventare avventisti del settimo giorno e santificare il sabato Maria online dice nel 2003 la sfida di Roma dopo più di cento anni resta o la chiesa cattolica ha ragione o gli avventisti del settimo giorno hanno ragione non ci può essere altra scelta e se non si coglie nulla la dottrina della sola scriptura collassa e con lei il pilastro su cui poggia il protestantesimo quindi ci sono due scelte lo dice Roma non noi andiamo a risposte cattoliche e vediamo come hanno capito il problema dicono gli avventisti del settimo giorno non possono cambiare il modo di vedere la chiesa cattolica la prostituta di Babilonia senza ammettere che è sbagliato riposarsi la domenica non può essere ammesso che l'adorazione domenicale non è il marchio alla bestia senza cambiare il suo modo di vedere sul sabato ebreo l'avventismo del settimo giorno non cessa di essere anticattolico senza cessare di essere avventista del settimo giorno hanno identificato hanno identificato un nemico sì o no la mia prossima domanda è inizieranno a indottrinare menti contro gli avventisti del settimo giorno e se iniziano a farlo indottrinando le menti perché i nemici non sono i jihadisti i nemici non sono l'isis i peggiori nemici sono coloro che seguono Cristo e mantengono i suoi comandamenti Apocalisse 13 dice così ogni altra cosa è manipolazione per indottrinare qual è il mezzo migliore per creare questa mentalità? la tv? non è un buon mezzo? ok i griffin probabilmente uno dei cartoni uno dei cartoni più disgustosi della stessa categoria dei Simpson scritti sempre da questi individui brillanti gnostici intelligenti e dottorati che hanno la peggiore maniera di trattare argomenti religiosi hanno piccole statue e reliquie che vendono e cosa fanno con Dio è così disgustoso da non credere Dio creò Adamo ed Eva e venne scoperto mentre guarda una pila di giornali pornografici e un pervertito in una serie Dio è ubriaco sta nel bar e frequenta delle prostitute Dio non crea il mondo con il soffio della sua bocca ma con un petto quello che fanno è disgustoso odiano Dio odiano ogni cosa che Lui fa e milioni di persone li guardano vediamo cosa dicono questa è una famiglia normale guardate normali ma questa coppia di diversi non sono normali sono tutto tranne che normali in questa storia da come parlano deduco siano probabilmente scienziati cristiani e dicono di avere una donna come profetessa e i griffin discutono con loro ma senza soddisfazione perché questi due non sono normali questo è normale mangia l'aspetto di normale grasso col cane e il bambino invece questa coppia sono diversi e dopo la discussione dicono con questa gente non puoi fare nulla non cambieranno mai andiamo via non potremo mai andare d'accordo con loro ricordate i gesuiti dissero questo mondo è creato per i pecatori e la legislazione deve proteggere i pecatori perché i giusti sono pochi e non possiamo neppure viverci assieme questo è l'obiettivo finale guardiamo lo trovo affascinante sentiamo gente stiamo perdendo tempo ovviamente sono proprio convinti della loro fede andiamo via Brian io non so chi è più pazzo questa gente sono gli avventisti del settimo giorno io sono un metodista noi crediamo che il Signore è il nostro salvatore e lo ricordiamo andando in chiesa e pregandolo ogni domenica io sono avventista del settimo giorno noi crediamo tutte le cose che tu credi ma andiamo in chiesa il sabato avete capito? cosa è stato impiantato nelle menti dei ragazzi e degli adulti? perché è un cartone per adulti ma è visto pure dai ragazzi chi sono i più pazzi? i settari? chi sono i più pazzi secondo Griffin? i ventisti del settimo giorno sono i più pazzi ci stiamo preparando per quello che deve arrivare? chiedo solamente quanto spesso ci è stato detto di ammorbidire il messaggio di avvertimento che dobbiamo solo vivere come un esempio necessariamente per com'è ma di non esporre la malvagità dell'uomo del peccato e di coloro d'accordo con lui abbiamo gente molto ingannata nel credere che le organizzazioni sono fatte di gente buona con buone intenzioni e i gesuiti non esistono esistevano nel medioevo siamo così ciechi da non comprendere più le profezie? chi è il nemico? chi è il nemico? la Bibbia dice che è l'uomo del peccato che siede nel tempio di Dio pretendendo di essere Dio e sta usando la bestia fuori dall'acqua per fare le sue cose perché la controlla chiamato ad esporre l'uomo del peccato proprio nel tempo in cui viviamo il Signore ha chiamato la sua gente e gli ha dato un messaggio da portare gli ha chiamati per esporre l'uomo del peccato che ha fatto della legge domenicale un potere distinto che ha pensato di cambiare i tempi e le leggi opprimendo il popolo di Dio che resta deciso per onorarlo mantenendo il vero sabato il sabato della creazione come santo verso il Signore lasciatemi dire chi è il nemico? guardando a questi poveri musulmani mi dispiace molto per loro immaginate di essere usati e manipolati e tenuti in povertà ammassati inseguiti e le case distrutte attorno a te per raggiungere un obiettivo e tu sei stato solo un oggetto nelle mani di questi individui sono sicuro che il cuore di Dio sta urlando per i musulmani intrappolati in questa situazione e loro non capiscono cosa accade e non capiscono da dove arrivi invece di pensare che loro siano il nemico no non sono i musulmani il nemico è a Roma il nemico manipola il mondo e indottrina la gente il nostro compito è di esporre la malvagità dell'uomo del peccato questo è il messaggio dei nostri tempi nient'altro quindi possa il Signore aiutarci per spargere il messaggio che non raggiunga solo le orecchie dei protestanti ingannati non solo raggiungere le orecchie dei musulmani ingannati e marginalizzati distrutti ma raggiungere le orecchie in tutto il pianeta di ognuno di noi non possiamo scegliere un nemico qui o là quando Dio ce lo ha già rivelato nella sua parola e attraverso lo spirito di profezia possa Dio darci saggezza per affrontare questo problema dove andiamo è parte del prossimo episodio è quello che accadrà quando tutto è pronto preghiamo Padre Celeste c'è così tanto inganno nel mondo e loro controllano la stampa i media e internet abbiamo solo poco tempo per portare il messaggio all'attenzione per predicare alla gente dove è il nemico e quale decisione prendere la decisione è tra i comandamenti di Dio e i comandamenti dell'uomo chi domina il Dio dell'universo o il Dio di questo mondo aiutaci a fare buone decisioni e aiutaci a focalizzarci nelle cose importanti dei nostri tempi e a urlare forte e non risparmiarci affinché molti siano salvi nel nome di Gesù Amen Sottotitoli e doppiaggio Sardaus Sottotitoli Sottotitoli